ciao amici lettori ben ritrovati oggi video curiosità sapete qual è stato il primo romanzo giallo della storia è stato un racconto di Edgar Allan Poe scritto nel 1841 con protagonista Auguste Dupin un investigatore tipo Sherlock Holmes che riuscirà a risolvere il delitto di un'anziana signora e di sua figlia che è esistito realmente nella realtà non è stato risolto dalla polizia il romanzo si intitola gli assassini della via morgue seguiranno altri racconti sempre con lo stesso protagonista fino alla morte di Poe nel 1849 questo è stato il primo investigatore il primo romanzo giallo in assoluto prima non esisteva il genere bene alla prossima se vi è piaciuto il video fatelo girare i vostri amici ciao